Poesia è la festa della parola, il disperarsi della parola, percorso pauroso, pensoso e accidentato, perché qualcosa sia e resti sul filo del niente. Poesia è, oggi, al tempo del coronavirus, il demoltiplicatore adatto a che il soffio, attraverso una parete ancor più sottile degli alveoli, alimenti il sangue, ci doni quel respiro d'affetto e di piacere che ci fa uomini, capaci di pensare. Poesia è, al tempo del coronavirus, quella parola e quel ritmo ispirati che fanno sgomberare uno spazio essenziale, indebitamente occupato da un ospite per nulla riconoscente. Poesia è, illuminato e limitato il sentir della poesia, così da trasformare l'eccesso di morte che in quest'era ha saturato ogni anfratto dalla vita lasciato aperto, in un'attesa che libera un pensiero delicato, capace di quel niente che ci fa perder fiato.